Ciao ragazzi, sono Lele Boria e sono qui per presentarvi i miei corsi di batteria che tengo per la civica di bimercate al Thunder Music Studio. Il mio programma prevede lo studio dello strumento a 360 gradi affrontando tutti gli stili, senza dimenticarsi della tradizione, lo studio del tamburo e di tutti i rudimenti. Vi voglio invitare qui al Thunder per fare una chiacchiera batteristica e per visitare la struttura. Ricordatevi di seguirci sui nostri social. Ciao amici e occhio a non correre con il metronomo.